ma chi è? sono signorina ma che signorina sei? che signorina sei? ma è al contrario questo mascherino c'è al contrario sotto sopra ecco guarda lì che signorina ciao arriva un'altra signorina un'altra signorina come me io non ce l'ho super signorina ti fermi? ti fermi? dammi un bacio ma la gamba hai visto? dammi un bacio anche io eh sì sì no ma era anche a me no prima tocca a me brava impara di no un pochino buonasera tu che super signorina sei? non ce l'ho quindi non sei super signorina guardate ancora guardate ancora guardate ancora anche io anche io anche io un filmoso un filmoso secondo me fa così la foto aspetta aspetta no 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 lasciala manigliera te la do guarda lì ci ahì sì cuz uuuu 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 sorridi aia vieni ora vieni ora dai le faccia è così a faria a faria e che viva adesso mi sa che è da rigirare buongiorno buongiorno io sono bella ah non sei più marini chiara? no 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 tu chi sei? sei l'unica messa a fuoco io sono bella io sono l'uomo della messa a fuoco io sono bella che sono messa a fuoco ok comunque adesso siamo messi a fuoco boh non sa manco lei vuole mettere a fuoco di faccia una peggio dell'altra a parte Maria Chiara insomma anche Maria Chiara con questi capelli con questi capelli con questi capelli pazzi eh sì allora ci stiamo svegliando insomma alzando perché ci dobbiamo preparare per andare a farci in giro i gigli volevamo appunto augurarvi il buongiorno tu non sembri molto convinto no io ancora non ho il buongiorno mi sa che a me è quel buon sonno per tenere il braccio e quindi niente ci prepariamo i gigli si stanno per alzare i grandi e niente ci prepariamo e andiamo a cantare no andiamo ai ai gigli ai gigli ai gigli oggi si domani e dopodomani ma fai cosa andiamo a gigli a fare la pappa a gigli a fare la pappa e certo perché per lei a mangiare ai gigli vuole dire andare da mcdonald quindi patatine comunque ci vediamo ci vediamo via via nella giornata ciao sangue e andiamo a far ma che dici e andiamo a farci la doccia a prepararci e ci vediamo dopo ciao 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 allora disavventura momentanea non partiva la macchina siamo riusciti a farla partire Antonio è fuggito non si sa dove chi c'è? Coco chi sei te? e poi? la principessa dei fiori chi sei? la principessa dei fiori ah la principessa dei fiori qui c'è la principessa con la coda il principesso il principe con gli occhiali la principessa dei fiori un'altra e qua invece chi c'è? il principe il re che re sono? non so che devi qua? dovrei prendere le chiavi e il telecomando spegne la macchina e allora stacca tutti i cosi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta aspetta la porta di io dico oggi abbiamo una giornata che è tutto un programma la mia pinza è qui perchè ha pelli sciolti mi sa che dureranno ben poco dobbiamo andare da? dobbiamo andare ai gigli quindi devi andare da questa parte e prendere l'autostrada ma che stai a di? comunque direzione gigli ci vediamo poi dopo ciao ciao tutto nero ciao ciao dicci la dicci la vi morte dai scusa paparotti e michael jackson sono morte te due eh vedi questo video e pensavo certo però rivedere delle persone che sai che ora sono morte ma noi nel video sono vive e becchie e si fa strano eh lo so si vede? non si vede più no si vede più comunque è bellissimo questo colore trovassi veramente lo smalto è bello si il rosa barbie no uscire qua secondo me è peggio ok vabbè perchè sono ignoranti e non ti fanno passare non ti fanno passare è questo male è questo male è questo male la musica buona buona no Mettiamo la canzone? Va bene. Allora dobbiamo staccare la macchina fotografica perché se no non possiamo metterne le canzoni. Ok? Dite ciao! Ciao! Ciao belli, si torna a casa! Allora, finalmente siamo usciti dalla macchina. Io sono in vesti casalinghe. Io ancora no. Io ancora invece è vestito per uscire. Sì. E niente. Siamo stati appunto ai gigli, come abbiamo detto prima. Abbiamo passato una bella giornata. Non mi ricordo se lo abbiamo detto. Ci siamo incontrati ai gigli con Samantha del canale Samantha Chicchi Lili. E siamo stati insieme, abbiamo prezzato insieme, ci siamo fatti un giro da Primark insieme. Insomma abbiamo passato una bella mattinata, no? Sì, sì. Giusto? E niente. Questo blog più che altro è stato fatto in macchina. Sembra che noi viviamo in macchina. Un caso. Eh, siamo usciti e non partiva la macchina. Eh sì, è stata una cosa bellissima. Ed eravamo in macchina. Poi se l'hanno avuto... Amore, abbiamo vinti Super Enalotto? No. No. Amore, me lo dai un bacio? Tu mi hai detto? Sì. Allora, non è una giornata no, è una giornata sì. Comunque. Comunque. E niente. Ah, dicevo, poi abbiamo fatto un pezzettino di video e stavamo andando ai gigli ed eravamo in macchina. Dentro ai gigli ci siamo goduti, diciamo, il tempo insieme con Ismael e Samantha e quindi non abbiamo preso fotocamera, non abbiamo preso niente. a partire quel pezzettino che ho fatto dei video dentro da Primark. Sì, ma sono rubato dalla Primark perché se ti beccavo ti facevano praticamente il sederino a strisce. Eh, e poi basta, non abbiamo... Ah, e poi abbiamo ripreso di nuovo in macchina. Sì. Quando stavamo tornando. Perché per noi la macchina è come il punto di ritrovo dove nessuno può scappare, quindi per forza devono essere il mio. Sì, sì, sì. È movimento, quindi... E niente, adesso... Ah, vi ho già girato il video degli acquisti di Primark. Sì, è stato anche già editato. Tra poco finirà. Eh, e sì, è quasi pronto, diciamo. Sono le ore 23.55 e mancano un'ora e venti alla fine del processo. Eh, beh, poi va messo anche su YouTube, quindi fa carinare. Comunque, niente, ora noi... Diciamo che tra un po' andiamo a nanna. E niente, ci vediamo al prossimo vlog. Come sempre, se ci volete seguire e volete essere aggiornati, perché mi stai guardando così? Se volete essere aggiornati sull'uscita dei nostri video, attivate la campanellina. Se vi è piaciuto stare in compagnia nostra, mettete un bel mi piace. E niente, se volete interagire in modo più immediato con noi, seguiteci anche su Instagram. Ma soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Blimblom, qua sotto, sotto il video, trovate... Ah, ma già ho fatto le mani. No. Qui sotto, sotto il video, troverete il... Nella descrizione anche il link. Il link, i nostri link. In più vi metto anche il link di Samantha, del suo canale. Del suo canale. E appena... Anche se penso che tutti la conosceranno, però... Sì, sicuramente meglio di noi. Eh, certo. Noi siamo proprio giovanotti. Lei ormai è già da diverso tempo essere qui. Sì, sono andato ormai. Eh, vabbè, niente. Comunque, noi lasciamo il link qua sotto. Andateci sopra, ci cliccate. E vi ricordo direttamente il suo canale. E appena possibile anche il link del video che farà praticamente il... Degli acquisti di Primark, anche lei, sì. Basta. Ora ce ne andiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao belli. Uuuuuh.